le storie di oscar numero 1 quattro passi in paradiso dimmi grazie mi disse al telefono piero bentivoglio il manager fiorentino delle orchestre grazie per che cosa chiesi con curiosità mista perché no ad una certa apprezzione perché ho firmato per la tua band un contratto per maggio giugno in un locale prestigioso dell'adriatico hai mai sentito parlare del paradiso club di rimini certo che ne avevo sentito parlare madonna che notizia ma noi eravamo praticamente un quartetto di studenti fuori corso in diverse materie dalla medicina alla giurisprudenza suonare in un night club così importante come il paradiso club di rimini significava una promozione sul campo da parte del nostro agente che ci rappresentava a livello nazionale ma significava anche che avremmo dovuto affrontare un pubblico sofisticato diverso da quello delle balere e dei circoli ricreativi di firenze e provincia nei quali eravamo soliti esibirci per mettere da parte un po di soldi ed anche perché diciamolo francamente ci piaceva proprio senza signor bentivoglio ma perché tra le decine di orchestre che lei rappresenta ha scelto proprio noi scusi la domanda forse impertinente perché tu hai un repertorio internazionale standard francesi inglesi spagnoli e poi siete berlini insomma adesso mettetevi a fare le prove su prove e vedi di non farmi rimangiare una decisione che qualcuno definisce azzardata il paradiso club era un po fuori rimini sul colle di covignano una struttura molto elegante in un'atmosfera raffinata che si distaccava da quella delle balere riminesi nelle quali del resto avevamo lavorato le stati precedenti il mio agente fiorentino conosceva bene il suo mestiere si entrava in pedana alle 10 di sera e fino a mezzanotte si doveva suonare senza interruzione servendo un pubblico costituito soprattutto da giovani e belle ragazze svedesi che facevano girare la testa ai gagliardi playboy della costa da mezzanotte in poi il volume degli amplificatori doveva essere abbassato per non disturbare gli ospiti delle pensioni e alberghi vicini il flow show interrompeva per una mezz'ora le danze sulla pista si esibivano tre quattro artisti previsti dal cartellone poi iniziava la vera serata intima da night club con i clienti che volevano trovare nell'orchestra un valido alleato per costruire le tante reciproche bugie che alleggeriscono le serate innaffiate dallo champagne ben ti voglio il mio agente aveva ragione le mie canzoni di asnavour e beko piacevano alla grande ed anche di standard di frank sinatra di nat king cole il mio grande ispiratore in termini professionali era bruno martino che avevo ammirato al caprisse di forte dei marmi un paio di anni prima quando era fuggito dal libano sconvolto dall'ennesima rivoluzione pensa che vita che faceva allora lavoravo come commesso all'emporio dell'auto in via nazionale a firenze a 200 metri dalla stazione di santa maria novella alle sette di sera prendevo un treno per via reggio poi un autobus per il lido di camaiore giusto al tempo di cambiarmi mettermi la divisa da musicista perché a quei tempi si richiedeva che gli orchestrali si presentassero sul palco in giacca e cravatta con quel caldo i locali si chiamava cavalluccio marino alle due del mattino giusto il tempo di attraversare il canale rifugiandomi dentro il caprisse ad ascoltare bruno martino il grande pianista cantante alle sette treno per firenze e di nuovo a lavorare all'emporio dell'auto dice ma quando dormivi in treno e poi grazie ai colleghi del negozio schiacciavo qualche pisolino soprattutto nell'intervallo del pranzo e pensare che in quel periodo ho dato i migliori esami della mia contrastata laurea in giurisprudenza ma oltre alle canzoni francesi inglesi spagnole a quelle dei cantautori italiani sulla cresta dell'onda del momento eravamo riusciti a copiare le migliori canzoni di un long plane di calypso giamaicano e piacevano molto capperi se piacevano piacevano soprattutto a marzio ciano figlio di edda bussolini sposata con il conte galeazzo ciano al paradiso club marzio ciano la faceva da padrone ubriaco fradicio tutte le sere e sicuramente impasticato marzio dalla sua aveva una simpatica indole ottimistica che lo rendeva una presenza amichevole tra i più assidui frequentatori di quel nightclub marzio amava moltissimo il nostro repertorio e soprattutto i calypso che del resto lui aveva ascoltato più volte dal vivo nei suoi viaggi nei caraibi quando la notte cioè verso le 3 4 del mattino finivamo di suonare i camerieri si guardavano bene dal disturbare il conte marzio che russava come un diesel stravaccato su un divano del club marzio meglio il signor conte non doveva essere disturbato neanche dalle donne delle pulizie che la mattina alle 8 avrebbero fatto il loro ingresso per dare una sistemata agli ambienti nelle sale marzio ciano aveva un conto aperto con il paradiso club che veniva onorato ogni 15 giorni dalla mamma edda l'amata figlia di benito mussolini che tra i vari amanti aveva privilegiato il marchese emilio pucci un grande gentiluomo fiorentino che si faceva un titolo di onore nel negare qualsiasi rapporto più che amicale con la contessa seguendo in questo il principio espresso da gianni agnelli secondo cui un gentiluomo non ammette mai di avere avuto una conoscenza intima con una signora il paradiso club era gestito da due direttori o almeno così li chiamavano camerieri e personale di servizio uno chiamiamolo paolo portava sulle spalle tutto il peso della gestione l'altro chiamiamolo armando era l'uomo delle pubbliche relazioni alto super palestrato abbronzato totalmente bruno riccioluto con occhi verdi gran consumatore di femmine di qualsiasi nazione religione cultura età e mantenuta la grande e la mature signore che riverdivano nel suo letto gli ultimi spirali della loro compressa sessualità matrimoniale dimenticata da qualche potente capitano d'industria della finanza della politica in tutt'altre faccende affaccendato la maserati decapotabile con la quale armando si esibiva arrivando a tartasera al suo club gli era stata donata da una gentildonna in laco gli anni che lo tempestava di telefonate di preziosi regali pur di poter avere il privilegio di stare in intimità per qualche minuto con il prezioso e statuario amante il pettegolezzo ricorrente tra la cucina del ristorante e i camerieri di sala era che il signor armando era un tipo di mano facile ovvero non si tratteneva dall'usare violenza contro le sue amanti ed in particolare contro quella che in quel momento lo finanziava alla grande una sera saranno state le 9 30 e dovevamo iniziare a suonare sentimo fuori della porta del club urla implorazioni piangenti sgassate della maserati decapotabile stridore di pneumatici era successo che la tempata signora milanese finanziatrice dell'armando si era fatta trovare alla porta dell'ingresso del paradiso club e aveva atteso l'arrivo del suo prezioso è il caso di dirlo amante dammi le chiavi della maserati aveva urlato alla signora un tipo di una secchezza estrema conquistata si fa per dire rinunciando ad ogni piacere della tavola per poter mantenere così le diceva il suo costoso trainer una silhouette da adolescente ma il problema era che il digiuno forzato accentuava la ragnatela di rughe che devastavano il volto della signora che avrebbe dovuto sottoporsi entro un mese ad una plastica marmorizzante seguendo il suggerimento nemmeno troppo velato del suo ganso riminese dammi le chiavi della macchina bastardo urlava la gentil donna e le lacrime stingevano la maschera degli occhi la poveretta somigliava nella sua denutrizione violenta a quegli uccellini bagnati dal temporale che cercano di scrollarsi l'acqua dalle penne dammi le chiavi bastardo continuava a urlare la signora che ormai si era avventata sul petto dell'armando e lo stava ferendo con un chilo di acuminati braccialetti d'oro che portava ai polsi l'armando era impassibile o almeno così sembrava visto che si sentiva addosso qualche centinaio di occhi dei clienti e personale del club che assistevano alla scena tentò ripetutamente di bloccare quei polsi armati di ferramenta d'oro che potevano causarli profondi graffi sul torace alla faccia la signora cercava di raggiungerlo ma senza successo visto che lei sarà stata alta al massimo un metro e mezzo mentre l'armando era vicino ai due metri ciliegina sulla torta tra gli astanti si era insinuata anche natasha bionda sintomatica bellezza della moribonda russia sovietica fatta venire in italia grazie alle conoscenze in alto loco che armando vantava tra i clienti del club e siccome la scena non poteva durare ancora per un bel po e bisognava trovare una soluzione l'armando adottò la sua specializzazione che l'aveva reso attenzionato al commissariato di pubblica sicurezza locale per precedenti episodi il baldo super abbronzato playboy allentò un paio di labbrate stile macellaio alla schiamazzante finanziatrice dei suoi lussi e presala per il collo la piazzò dentro un taxi fiat 123 il primo della colonna in attesa che prese subito il via nonostante gli schiamazzi della gentildonna grazie alla lauta mancia l'armando spazzolò con le dita della mano destra alla cipria che si era appiccicata sulla sua camicia di lino e porse le chiavi della maserati a giulio il feroce guardaspalle dicendoli portala subito dietro il cascinale perché non deve essere trovata entrato dentro il paradiso club si avvicinò ad un telefono della guarda robiera e compose un numero metti subito in vendita la maserati si c'era quel tale l'altra sera che la voleva a qualsiasi prezzo fammi sapere poi avvicinatosi al microfono dell'orchestra disse rivolto ai clienti mi dispiace per il piccolo incidente di cui siete stati spettatori la prima consumazione a carico mio e buon divertimento